Per una reale ripartenza dopo la pandemia, enti locali e imprese potranno contare sulle risorse messe a disposizione da due programmi specifici, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, FESR. Per spiegare come poter richiedere questi fondi, la BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura ha organizzato un incontro con tecnici e specialisti lo scorso 14 aprile presso la propria sede centrale a Carmagnola. Tutto questo, come sottolineato anche dal presidente della BCC Alberto Osenda, per soddisfare venire incontro alle attese da parte del mondo produttivo e di quello istituzionale. La BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura ha organizzato questo incontro perché l'argomento del PNRR è un argomento importante, interessante e coinvolge sia le istituzioni che le aziende private. Alla serata hanno partecipato tanti imprenditori e amministratori locali che hanno contribuito insieme alla competenza tecnica e alla chiara esposizione delle linee di intervento regionali e nazionali all'ottima riuscita dell'evento. Sia l'assessore regionale Andrea Tronzano, sia Luigi Duranti, referente PNRR del gruppo Casa Centrale, hanno sottolineato come, per richiedere questi fondi, siano necessari interventi sul fronte della digitalizzazione e dell'economia verde. Noi puntiamo a differenziare, cioè fare in modo che il nostro territorio possa usufruire del mix produttivo che è la forza del Piemonte. Questi fondi europei, in particolare la programmazione europea, perché il PNRR viaggia un pochino al di sopra, sorvola la regione e influisce soprattutto sui comuni e sulle università, mentre sulla programmazione europea 21-27 noi veramente possiamo dare alle nostre imprese quell'affiancamento di cui c'è bisogno, nel senso che le nostre imprese sono solide, hanno bisogno però di un aiuto per transitare in questo periodo di grandissima svolta storica e questi fondi potranno aiutarli a passare a settori a più alta produttività e conseguentemente a essere più competitivi. Il ruolo delle banche si manifesta proprio come un ruolo strategico di cinghia di trasmissione rispetto a questo grande esperimento che è il PNRR e che porta la fetta più importante del Next Generation EU a supporto delle piccole e medie imprese italiane e anche delle amministrazioni pubbliche. Per cui diventa un hub di riferimento per capire come le misure si stanno svolgendo sui territori, ma anche per creare le anticipazioni finanziarie corrette per avviare questo enorme panel di investimenti che il budget europeo porterà sui nostri territori, sui nostri comuni, e sulle nostre comunità. Il PNRR è uno strumento in cui le linee guida sono ben evidenziate anche dal portale che la cabina di regia nazionale ha messo a disposizione dei cittadini e delle imprese, italiadomani.gov.it, ma anche da tutta la rete consulenziale che è stata messa a supporto anche dalle banche per capire meglio le linee guida del PNRR, che sono la digitalizzazione e l'economia verde, l'economia di transizione. Per cui gli investimenti dovranno sicuramente seguire queste due linee di indirizzo per essere più performanti e più efficaci. Un team di esperti guidato da Andrea Rolfo della BCC di Casagrasso e Sant'Alba Nostura seguirà le imprese in questo percorso. La nostra banca ormai è strutturata da tempo per dare supporto e consulenza alle aziende. Abbiamo un team dedicato di ragazzi veramente volenterosi in gamba che quotidianamente si mettono a disposizione della nostra linea corporate, quindi il mondo imprese. Continueranno a fare quello che hanno sempre fatto, fornire consulenza e consulenza avanzata. I fondi PNRR, come sapete, spaziano veramente a 360 gradi da linee di intervento già conosciute e note come la Sabatini, il credito di imposta 4.0, ad altre linee nuove che conosceremo strada facendo e che verranno piano piano messe a terra. Siamo pronti, il nostro team è preparato, è veramente coeso, contiamo di fare delle buone cose, le nostre aziende sono come sempre buone mani. La BCC di Casalgrasso e Sant'Albanostura resta a disposizione di tutti i propri clienti e prospect per fornire, insieme alla partnership strategica con Warrant Hub e il gruppo Cassa Centrale, consulenza dedicata e la necessaria anticipazione finanziaria.